Noi abbiamo chiesto le dimissioni del ministro Cancellieri perché all'interno delle carceri le condizioni dei detenuti sono disumane, non soltanto per Giulia Maria Ligresti. Forse il ministro Cancellieri deve un favore alla famiglia Ligresti vista la buona uscita di suo figlio da direttore generale di Fonsai nel 2012, buona uscita da 3 milioni e 600 mila euro.